ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che è appena uscito nelle sale che è end of justice nessuno innocente diretto da dan ghiroi con denzel washington ne parlo naturalmente come sempre immancabilmente con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo immancabilmente buongiorno immancabilmente buongiorno end of justice fa parte di quella schiera di film che possiamo inserire nei thriller sociali o politici qualcosa del genere sociali e legali un legal thriller che a me devo dire la verità come genere non dispiace poi quando ci sono i dibattimenti in tribunale mi piacciono abbastanza qui però stiamo parlando di un avvocato che ex avvocato avvocato che è come si dice è stato impegnato nei diritti civili che si trova improvvisamente impegnato in qualcosa di più grosso sì assolutamente protagonista come detto è denzel washington che dico subito il titolo almeno la prima parte del titolo è end of justice è un po in un certo senso forviante mentre la seconda parte del titolo in italiano e nessuno è innocente invece molto esplicativo il film in lingua originale ha un titolo completamente diverso che è roman j israel esq esq il titolo del dell'avvocato ed è il nome del del protagonista di questo avvocato che è uno tutto d'un pezzo che ha delle grandi regole etiche e morali che per tutta la vita ha perseguito ma la carriera anche di un avvocato o come come di qualunque persona a volte si deve confrontare e scontrare con quello che la vita gli presenta allora anche anche l'avvocato appunto roman j israel si scontrerà con con contro un caso che lo metterà in grossa difficoltà e farà vacillare i suoi principi il film è un film molto strano ma molto interessante anche a me piacciono moltissimo i legal thriller perché comunque sono occasioni per riflettere sulla sulla società e mi permetto anche di dire se a volte non se ne fanno abbastanza è sempre importante soprattutto di di questi tempi e questo dibattito che nasce dal nel film è molto attuale cioè il concetto del in un certo senso del compromesso per andare avanti il film è appunto come detto un film fatto bene arguto nella sceneggiatura e nella nella regia che porta la mano di den ghiroi che l'hanno già visto all'opera per lo sciacallo il film quindi quando pensi a denzel washington pensi a in quanto lui attore grandissimo ma anche bandiera e attore impegnato politicamente per i diritti per la difesa e la tutela dei diritti eh degli uomini di colore ecco pensi che il film vada in quella direzione invece non va e secondo me questa è un'ottima cosa in quella direzione perché comunque già ce ne sono di film che tratto in quell'argomento ma parla di una cosa ancora più universale che è quella del compromesso per per vivere tanto più che siamo in un contesto di eh legalità e giustizia beh interessante ehm il regista dicevi che insomma è stato il regista di un film interessante come era molto molto cinico molto nero come era lo sciacallo eh ma anche di insomma di di film di un livello decisamente inferiore stiamo parlando per esempio della della saga di di jason burn ma ehm dell'ultimo capitolo di jason burn ah del penultimo hai ragione hai ragione del penultimo e invece si con jeremy renner che è forse veramente il meno riuscito di tutti quanti ma eh questo invece come si pone visto che è un po' diverso dagli altri si pone in una struttura secondo me divisa in fondamentalmente in due parti ovvero una prima parte dove si costruisce cioè lo spettatore eh apprende l'etica la professionalità il senso del dovere del eh dell'avvocato appunto roman j j israel invece nella seconda parte eh vediamo come questo atteggiamento cambia eh radicalmente oltre al fatto che c'è una piccola ma non particolarmente significativa eh storia diciamo così d'amore nel senso che roman j israel incontra una persona che lo fa eh vacillare sentimenti sentimentalmente eh lui ero eh è un avvocato devoto interalmente al al lavoro al senso del dovere e questa parentesi che è circoscritta aggiungo io per fortuna eh non 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 danneggia il film è una parentesi nel nel film stesso quindi abbiamo questa eh doppia struttura e anche molto interessante vedere come ehm roman j israel eh abbia questo approccio veramente devoto per per questi eh principi e come tante volte lui cerca di di fare del bene perché è mosso da principi importanti e invece eh risulta eh controproducente a un certo punto si troverà sul sul lastrico perché lo studio dove eh lavoravo lavorava sta per chiudere perché il suo socio eh gli viene un ictus e quindi deve eh costretto a delle cure in ospedale lui rimane solo e non riesce a sostenere la mole di questo grandissimo studio di eh di Los Angeles e quindi si trova da solo in un percorso che non non era eh solito facile fare è un film in un certo senso difficile anche particolare che ha questo titolo End of Justice che fa pensare a qualcosa di anche un po' spettacolare ma che in realtà è tutto un film su eh la la morale il senso etico è un film che mi sento di definire intelligente e arguto e poi Denzel Washington dimostra non ne ha bisogno se lo sappiamo benissimo però eh dimostra quanto eh sia un un attore vero secondo me anche proprio della vecchia scuola cioè di quelli che sanno sostenere non solo per carisma per ma anche per abilità proprio attoriale un film tutto su di sé il film il personaggio è anche un po' ha secondo me qualche pecchettina nel senso che è un po' caricaturale nel senso che è un po' gampiano mi sento di dire un po' la Forrest Gump non per deficienze eh mentali quello no assolutamente ma perché ha un po' dei tic lo stupore lo stupore nei confronti delle cose del mondo sia quello sia anche un po' qualche eh tic un po' così un po' strano che eh secondo me accentuano la 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 fisicità e secondo me distraggono in un un certo senso ma nel nel compresso l'ho trovato un film molto molto bello un film che dura un paio un paio d'ore che segui eh molto molto bene già dico solo una cosa già dall'inizio del film capisci eh l'approccio molto serio del eh del del regista e della della sceneggiatura e mi sento anche di citare Hitchcock della finestra eh cortile della prima inquadratura secondo me è molto ha un richiamo molto a quel film nel senso che c'è una carrellata da destra a sinistra in cui in trenta secondi ti viene spiegato chi è Roman J. Israel. la stessa cosa succedeva la finestra sul cortile con quella carrellata che arriva poi a a a James Stewart che è sulla sedia eh sulla sedia eh sulla sedia a rotelle e tu capisci però in trenta secondi eh chi è il il personaggio protagonista e l'ho trovato già come impatto una cosa eh molto 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 intelligente che mi ha fatto entrare subito dentro nel film eh volevo capire eh quale era la storia qual era la storia qual era il personaggio e qual era il suo percorso e secondo me Denzel Washington lo fa molto bene eh Dan Giro e gestisce bene la regia e c'è anche un moncast eh che lo lo spalleggia in particolar modo c'è Colin Farrell che fa il il suo futuro capo eh un Colin Farrell molto cinico e spietato un anche quello un anche quello un personaggio interessante bene interessante davvero eh mi sembra questo end of justice nessuno è innocente il l'ultimo film di Gilroy con Denzel Washington protagonista e naturalmente al cinema grazie per Paolo ciao a tutti e al prossimo appuntamento grazie a tutti